Ciao, sono Carlo Vittorio Canistraci. Sono da Italia. Sono un professore a Zingua University e in particolare ho lavorato a Zingua Laboratory of Brain and Intelligence. Ho studiato il lavoro che ho vivuto in diversi paesi, gli Uniti, Germania, l'Arabia, ma credo perché ho deciso di rimanere qui in Cina. Ho lavorato giornalmente e a volte volte al giorno, ma invece di andare in un gioco, preferisco i paesi, perché ho bisogno di contattare con la natura, il cielo, i formi di tree, i torni di me e il ritorno. In effetti, in tutti gli altri paesi che ho vivuto, non ci sono molte facili di training in spazio pubblico. Ma qui in Cina puoi trovare piccoli strumenti in quasi ogni regione. Un bar per pull-up, alcuni strumenti per dip. Quando ho lavorato in questi paesi, vedo i seniori facendo tutte le altre attività, specialmente in summer, quando il ritorno, vicino di Miami, è pieno di persone che facendo diversi tipi di danza, karaoke, orchestra o solo player. È così divertente, vedere i seniori chenisi facilmente gather together per fare un'attività, al solo costo di stare insieme, che ho piaciuto il momento. Io molto respecto questo. C'è qualcosa di molto più facile. Ci sono davanti a più freddo di salute. A soprattutto a tutti i giorni, ma tutti sono anche freddo di salute. Ci sono fondamentale, sono fondamentale. Quindi, ci sono più di questi palazzi, e l'asservazione migliore della azione. Ci sono più di un'attività di una maniera. Ci sono anche di un'attività di un'attività. ci sono delle attività di un'attività. Ci sono più di un'attività di un'attività! E anche tra i treni di fredivino regolari, da quando ero piccolo perché crescivo nel mare a Sicilia. Quindi sono veri di trovare una comunità di fredivino in Cina, anche se. Ci sono passato uno dei miei amici, Sean, per amici di amici medi comuni, che vengono sport e fredivino. Questo è molto facile in Cina. Ci sono feli, aiutti a te scoprire qualcuno che ha ghiermato interesse con te. È anche facile trovare posizioni di fredivino, ali sokongelui, qui in Beijing. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.